Il Vangelo secondo Giovanni La liturgia di oggi ci spinge a vedere oltre Se ieri abbiamo festeggiato tutti i santi e abbiamo riposto la nostra fiducia nel Signore Oggi ci è chiesto di avere fede in Lui anche quando saremo nel passaggio ultimo della nostra vita Cioè nel passaggio della morte La morte non è l'ultima parola Alla tristezza e alle lacrime di dolore è stato fissato un termine Lo stesso amore che Gesù porta al Padre verrà riversato su di noi Perché nell'obbedienza del Figlio al Padre sarà portato a termine quel non perdere nessuno di quanti sono stati creati A noi è chiesto di credere nel Figlio e nella Sua risurrezione Già nell'oggi per vivere bene personalmente la volontà di Dio E per sapere che ogni nostro sforzo e ogni nostra obbedienza avrà un lieto fine E ancora di più per credere che pure i nostri cari defunti non sono persi nella polvere Ma li riavremo per sempre nella vita nuova